Non ho mai conosciuto bene il vecchio Vaticano prima che venisse distrutto. L'ho visto da fuori come un qualsiasi turista. Lo immagino come un posto pieno di vita, un alveare di attività. Un tempo uno scrittore aveva detto che San Pietro non gli ispirava nessun senso di spiritualità, che gli sembrava la sede del consiglio di amministrazione di una multinazionale. Se potesse vedere il nuovo Vaticano apprezzerebbe il cambiamento. Ora che tutto il lusso e gli ori e i dipinti preziosi si sono trasformati in fumo e cenere, ora che la Chiesa si è purificata nel fuoco atomico, siamo diventati più degni di rispetto?